Distruggiamo quel dannato obiettivo! Voi hanno un obiettivo obiettivo! Abbiamo un obiettivo obiettivo! Voi si sono! Cosa! Iniziamo! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! We have lost Objective Apples. No, 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 no! The enemy's message. We have picked up the pigeon. We have picked up the pigeon. We have picked up the pigeon. The pigeon. We have picked up the pigeon. We have picked up the pigeon. The coordinates have been sent to our artillery. Yes, they're gone, Arthur! We have picked up the pigeon. 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 We have picked off the pigeon The enemy has released the pigeon We have picked off the pigeon Siamo rilassati il pidgetto. Siamo rilassati il pidgetto. Siamo rilassati. 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 Ammunition to you. Sì, Sì, Sì!